In questi giorni in Campidoglio si fa un gran parlare del nuovo luogo di Roma capitale e della zonizzazione delle prostitute, ma c'è qualcosa di molto importante e molto grave della quale nessuno parla. Voi vendereste una casa vista fuori Romani a meno di 250.000 euro? No, non la venderei ma sicuramente l'acquisterei, ma abbiamo scoperto che il Comune fa anche meglio. Da alcuni anni, alcuni decenni addirittura dà delle case a degli esercizi commerciali a pochi euro al mese e nemmeno quelli vengono pagati. Il sindaco Marino si sta svendendo il patrimonio immobiliare di noi tutti i Romani del valore di 300 milioni di euro che potrebbe invece rendere molto di più. Quindi vi invitiamo per questa battaglia lunedì e martedì in Campidoglio 14.18. Vi aspettiamo.